spero tu stia venendo dal video precedente e ora modifichiamo questo grafico per andare a creare un diagramma di gant o gant prima di tutto io cancellerei la leggenda cancellerei il titolo ok allarghiamolo ok io faccio un doppio clic così mi apre anche questa finestra qui questa serie qua in blu indovino un po' andiamo a metterli come riempimento nessun riempimento io sono obbligato a mettere la trasparenza al 100% perché non ho l'opzione tra i colori nessun riempimento voilà poi a me personalmente piacerebbe che si iniziasse con gli scavi qui in alto poi fondamenta e tutto il resto quindi seguendo quest'ordine quindi vado qui se hai una versione vecchia tasto destro formato asse che funziona anche da me per carità vado qui e dico categorie in ordine inverso perfetto però che ha fatto mi ha spostato l'asse qui in alto che non mi piace lo preferirei in basso e quindi metto alta categoria massima in intestazione asse orizzontale questo portiamolo un po più giù perché adesso andremo a calcolarci il minimo e il massimo di che cosa della data quindi la data più piccola che abbiamo min dove sarà la data più piccola qui o qui in colonna b l'inizio ovviamente è il massimo in colonna e ok queste due sono date però sono espressi numero seriale basterebbe cambiare da generale a data ma noi va benissimo il generale perché dobbiamo conoscere questo numero esatto ok vado qui giù in quest'asse per le versioni vecchie tasto destro formato asse altrimenti per le versioni moderne puoi cliccare su quest'icona direttamente abbiamo opzioni assi nel minimo dovremo inserire questo valore esatto consiglio lascialo poco poco più basso quindi in questo caso io metterei 9 2 0 e qui lascialo poco poco più largo quindi metterei in questo caso 100 ok ecco qui non male altrimenti se preferisci puoi sempre lasciare questo esatto numero poi questo testo così fa schifo non ho altri termini fa veramente pena e dobbiamo modificarlo per le versioni vecchie credo sia tasto destro formato asse non nessun sicuro da me invece qui in allineamento tolgo orizzontale verticale non va bene dire il ruotato di 90 gradi porto così ok meglio poi queste barre non mi piacciono sono troppo distanziate andiamo qui su opzioni serie distanza tra le barre io direi un 15 per cento va già molto meglio altre modifiche generiche ecco qui poi se vogliamo mettere qualche altra riga qua formato asse unità principale io direi 10 la metà perfetto ma non abbiamo ancora finito andiamo a vedere quanto questo grafico risponde ai nuovi input che gli diamo vero se andiamo a modificare i dati ci hanno detto che non possiamo iniziare 10 dobbiamo iniziare il 12 scriviamo 12 ha ricalcolato tutto e per questo motivo ti ho detto il massimo lascialo un po più largo che non si sa mai rimettiamo il nostro 10 ci impiega un po a caricare ok ci dicono che l'isolamento del tetto gli infissi l'idraulica l'elettricità e il gas tutti questi tre possono essere fatti in contemporanea o meglio più o meno in contemporanea ci dicono che l'isolamento del tetto e gli infissi possono iniziare esattamente lo stesso giorno quindi cosa facciamo cambiamo questa data di inizio da e 7 cella e 7 sarebbe questa mettiamo la stessa identica cella della data di inizio del task precedente quindi mettiamo e 6 ok l'idraulica ci dicono perfetto possiamo iniziare però non è bene che ci siano un sacco di operai a fare sia l'isolamento del tetto sia gli infissi sia l'idraulica ed è meglio che si aspetti più o meno due o tre giorni prima di partire a fare l'idraulica quindi possiamo scrivere questo giorno punto lavorativo data iniziale questa data iniziale punto e virgola ci hanno detto due o tre giorni noi mettiamo tre giorni punto e virgola le vacanze o meglio la data di inizio dell'idraulica sarà la data di inizio degli infissi più tre giorni lavorativi ovviamente contami anche le vacanze il campo vacanze che ho creato in precedenza perfetto l'impianto elettrico ci hanno detto guarda non può essere lo stesso giorno dell'idraulica aspetta almeno due giorni quindi facciamo giorno punto lavorativo data iniziale questa punti virgola giorni facciamo due punte virgola vacanze chiudiamo invio ok il gas pure ci hanno detto che può partire con l'elettricità ma aspetta almeno tre giorni quindi giorno lavorativo questa data punto e virgola tre giorni punto e virgola vacanze chiuso voilà come vedi il massimo il minimo gli ha dovuti ricalcolare o meglio solo il massimo perché il progetto si è tra virgolette accorciato io ti consiglio di modificarlo poi ci hanno comunicato che ci sarà uno sciopero esattamente il 16 agosto scriviamolo 16 08 2017 ed ecco qui non so se l'hai notato ma ha ricalcolato tutto in maniera dinamica cancelliamolo quindi concludendo fatti il campo vacanze fatti i due le due celle con minimo e massimo ti servono i giorni veri per fare questo grafico perché ripeto sarebbe più che altro un calendario quindi devi tener conto dei giorni reali effettivi e non è difficile da calcolare addizionare ad una data una specifica quantità di giorni lavorativi è facile con la funzione giorno punto lavorativo soprattutto se ti rinomini il campo vacanze qui non si nota più di tanto ma queste operazioni qua questa 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 e questa vanno come si chiama questo l'hai studiato in project management in parallelo e queste vanno in serie si inizia una si finisce e si può passare all'altra si finisce si passa all'altra ma qui queste due vanno in parallelo puro quindi iniziano in parallelo continuano in parallelo e finiscono in parallelo queste tre sono in parallelo anche se non sono esattamente in parallelo hanno solo in parallelo una parte non tutta l'operazione idem queste due tra di loro in questo caso si dice in parallelo anche se non sono puramente esattamente in parallelo come queste e mi piacerebbe approfondire ma queste cose riguardano una disciplina chiamata project management e vanno ben oltre lo scopo di questo video se hai problemi con il diagramma di gant contattami sono sempre disponibile magari inviami il file o uno screen sono a conoscenza anche di altri segreti sul grafico di gant o meglio diagramma di gant ma farò il video e lo pubblicherò solo dopo aver raggiunto mille iscritti al canale quindi se questo video ti è piaciuto iscriviti